Recensiamo oggi la Salming S21 Attack. Salming, famosa azienda svedese, ha deciso di lanciarsi nel mondo del paddle e la pala Hero S21 Attack è una delle sue top di gamma. Per essere una paragoccia ha comunque peso e bilanciamento gestibile dato che parliamo di 353 grammi per un bilanciamento a 26.2 centimetri, quindi medio. E questo lo si sente visto che la racchetta è davvero molto maneggevole. Il puntodoncelo non è ampio e richiede sempre massima precisione nei colpi per evitare errori. Le facce sono lisce e per questo gli effetti ne risentono un pochino. Il carbonio è 12k e la gomma è una Eva Attack che rende il piatto abbastanza duro. Buona è comunque l'elasticità della gomma, con la racchetta che ha una bella uscita di palla. Al colpo di fino la Salming S21 Attack preferisce sicuramente l'impatto deciso. La rete si muove agile e brilla nei cambi di direzione e quando si cerca di spingere le voli rispondono sempre presenti. Dall'alto non pensate di fare i buchi in terra, ma è comunque una palla che sa dire la sua. Il cordino è senza polsiera, ma è fin troppo lungo e non comodissimo. La Salming Hero S21 è una racchetta per un livello intermedio alto avanzato, indicata al giocatore di sinistra in cerca di una palla che spinga il giusto ma che sia anche maneggevole. Prezzo non basso dato che parliamo di 285 euro di listino.